A proposito di tutta la discussione sul biodigestore proposto da Marche Multiservizi nel territorio della provincia di Pisa Urbino, a Vallefoglia non c'è nessuna proposta, come ho detto, formale in comune e quindi discutiamo di una cosa che non c'è. Se ci sarà una proposta, quando ci sarà una proposta, la valuteremo attentamente con due obiettivi. Tutti gli insediamenti produttivi e gli insediamenti abitativi stanno nelle norme della tutela della salute, che è la prima cosa che abbiamo sempre guardato. E anche tutti i miglioramenti ambientali, ecologici e di bellezze naturali, come abbiamo sempre fatto. Quindi nella programmazione del piano regolatore le cose che sono previste si fanno, ma si fanno tutelando la salute e tutelando l'ambiente e il paesaggio. Grazie. 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 Grazie.